L'incontro di oggi, 8 maggio 2023, riguarda la serata Black Walks 5, che debutterà il 10 maggio e sarà per alcune repliche fino al 30. È uno spettacolo molto importante perché riporta alla scala dopo 13 anni il maestro William Forsyth, un coreografo americano molto particolare e seguitissimo nel mondo, che ha studiato un progetto unico per i ballerini scaligeri. Questo progetto ha a che fare con l'omaggio ai didatti della danza, ha a che fare con la danse de colle e con la musica di un compositore, James Blake, che il maestro Forsyth ha scoperto durante la pandemia e con il quale ha lavorato scoprendo che questo compositore di formazione classica si era convertito al pop con una vis che il maestro Forsyth chiama addirittura ciaikoschiana e quindi è una nuova sperimentazione per lui che è sempre stato uno sperimentatore capace di uccidere mille volte se stesso, ovvero il suo lavoro per continuare la sua ricerca in progress, che lo ha portato su un terreno credo molto gradito, molto amato anche dalle giovani generazioni. Infatti questo Black Works è arrivato alla quinta produzione qui in Scala. Dico è un unicum perché ha una composizione molto particolare, una sorta di serial, nel senso che il maestro Forsyth poi si recherà ad Amsterdam per creare un'altra tappa di questo cosiddetto progetto serial dedicato a James Blake. Questo speciale progetto per il teatro La Scala, fortemente voluto dal maestro Manuel Egrì, è anche un omaggio ai grandi didatti della danza, cioè ai maestri e la conformazione dello spettacolo sarà un omaggio ai danzatori, un omaggio ai didatti e un omaggio anche al loro lavoro quotidiano che è quello del lavoro di riscaldamento, del lavoro alla sbarra e del centro. Questo è il programma e quindi sarà curioso vedere come Forsyth riuscirà a vincere il pubblico scaligero con un progetto che potrebbe sembrare meno sperimentale dei suoi abituali, ma in realtà non lo è, perché vuole mostrare innanzitutto la personalità di ogni singolo danzatore, cosa che gli è costata molto molto lavoro e dunque c'è questo doppio dono al pubblico perché si avvicini, entri dentro l'architettura del movimento secondo le coordinate di Forsyth che sono quelle di concepire la coreografia come arte che organizza il movimento mentre la danza è sorella della coreografia ma è un'altra arte di cui soprattutto i ballerini sono i portatori, gli interpreti e quindi i beniamini del pubblico. Grazie a tutti.